Salute, territorio, comunità, partecipazione. Sono questi i pilastri della Rete Civica della Salute di Trapani che è stata presentata durante una conferenza tenuta nella Sala Sodano di Palazzo Dalì che ha visto diversi interventi a partire da quelli dei coordinatori delle varie realtà locali. La Rete Civica della Salute nasce con un atto di indirizzo della Regione Sicilia del 10-10-2014. Nasce con l'intento di avvicinare sempre di più il cittadino ad un sano stile di vita ma soprattutto ad essere dei cittadini informati. Grazie alla Rete Civica ci si può registrare intanto all'interno della piattaforma della Rete Civica della Salute per poi diventare anche dei riferimenti civici nel territorio. Io rappresento il coordinatore per la provincia di Trapani per la Rete Civica della Salute ed è un lavoro che stiamo facendo di informazione del cittadino in maniera minuziosa anche perché ancora non c'è quella cultura da parte della popolazione di attingere ad informazioni che siano chiare, che siano dettagliate e puntuali. Ecco questo è il lavoro che fa la Rete Civica di avvicinare i cittadini e di renderli sempre più attivi e partecipi per quanto riguarda la salute. Ma fa anche un'azione di prevenzione e su questo ci stiamo anche muovendo in rete con le varie associazioni anche con il terzo settore. Giustamente rappresentando il territorio di Trapani io insisto come attività divulgativa e informativa nel territorio di Trapani ma siamo dislocati in tutta la regione Sicilia.